Giulia, come è iniziata questa passione per il calcio femminile? Non ero piccola, è iniziata grazie a una mia amica che mi ha fatto scoprire il calcio, come possibilità anche per le ragazze. Ho iniziato con i maschietti e quando ho avuto un primo approccio con i maschi mi sono sentita a casa, non ho mai notato questa differenza che tutt'oggi continuano a portare avanti. Hai mai giocato contro un tuo amico e ti sei sentita più forte? Sì, è successo, però non sono la tipa che... Tu pensi che ci siano anche donne più brave dei maschi a giocare a calcio? Diciamo che sono due livelli differenti, però come c'è il fenomeno nel calcio maschile e credo ci sia anche la fenomena, tra virgolette, nel calcio femminile. Ecco, possiamo dire che la tua è una passione. Siamo alla festa delle donne, cosa ti auguri per questa commemorazione? Mi auguro innanzitutto che questo discorso del calcio femminile prenda sempre più piede, e che finalmente si arrivi a un punto dove non ci siano più queste divisioni, differenze e che venga messo tutto sullo stesso piano. Come indossare la maglia della tua città e giocarci? Sono molto legato a questa maglia. Non sono tantissimi anni che la indosso, però in pochi anni mi sono affezionata. Per me la cosa che conta di più è avere un gruppo, una squadra, piuttosto che scendere in campo e magari vincere la partita, ma non uscire da squadra. Quindi per me indossare questa maglia e portare sul petto questo scudetto, questo logo, per me è molto importante. E spero che questa realtà andrà avanti per molto. Camilla Zampolini Camilla, quando hai iniziato a giocare a calcio cosa hai detto ai tuoi amici? Che finalmente stavo realizzando il mio sogno di bambina, finalmente potevo prendermi quella soddisfazione e poter condividere con altre undici ragazze quello che non mi era stato concesso da piccola. Hai ricevuto mai qualche scherzo ironico, anche qualche stessa da derisa, metaforicamente? Beh, diciamo sì, è il primo commento che ti fanno. Prima di essere felici per te, molti ironizzeranno sul fatto che non faremo un vero campionato, giocheremo per lo più per divertirci. Sarà una cosa poco seria, poco bella, soprattutto molti ironizzano su cosa significa davvero il fatto che io voglio giocare a calcio. Altri invece mi hanno molto sorpresa, sono stati davvero contenti perché sapevano cosa significasse per me poter realizzare questa cosa e quindi mi hanno davvero supportata e è stato impressionante. Cosa pensi della buona calciatrice? Penso che sia un atleta, una professionista, a cui andrebbe riconosciuto molto di più rispetto a quello che le ha già riconosciuto. Dopo oggi finalmente avremo il professionismo, è una grande conquista per noi ma è una cosa che doveva sicuramente accadere prima di oggi. Penso che non abbia niente da invidiare a un calciatore. È semplicemente una donna che fa sport e lo fa con serietà. Se dovessi fare la professionista da calciatrice, partiresti lontano da dove vivi e abbandonando anche la famiglia? Rimango molto umile, non ho le capacità per partire, sono più che sicura. Ma se dovesse accadere lo farei volentieri, naturalmente. È un sogno per tutti. Quale ragazzo non ha sogno di diventare calciatore, anche una ragazza lo può sognare, quindi partire è un sogno che abbiamo tutte fondamentale. Guarda sempre qua. Benedetta De Carolis. Che cos'è per te il calcio femminile? Il calcio femminile innanzitutto è una passione. È una passione del calcio in generale e credo che il calcio femminile sia... C'è fiatore. Possiamo rifà. Il calcio femminile è un'opportunità. Un'opportunità per tutte le ragazze che vogliono praticare questo sport. Personalmente è una passione e sono molto felice di aver trovato una squadra composta da ragazze come me. Ecco, c'è stata mai una sfida con i tuoi amici uomini, maschi, su quello che fai? Sì, certo. C'è stata, amici, il mio stesso fidanzato. Però mi è capitato a volte di aver subito anche una discriminazione. Ad esempio quando ero bambina e mi trovo al parchetto con gli altri maschi, diciamo, ero etichettata. Però alla fine, diciamo, sono sempre stata accettata, anzi, è sempre stata una bella scoperta. Oggi invece è cambiato, perché il calcio femminile va in televisione, è subentrato un nuovo modo di essere interpretato. Sì, sì, sicuramente sta prendendo più piede, gli è stato riconosciuto il suo valore e questo sicuramente è una bellissima cosa. Spero che in futuro andrà ancora più in voga, soprattutto a livello anche televisivo, che gli sia dato un maggior valore. Se dovessi diventare una calciatrice professionista e dovessi partire lontano dalla Dispoli, rinunceresti anche ai tuoi effetti, anche al tuo fidanzato? Penso di sì, perché è una passione che sento forte dentro di me da quando sono bambina e potrei pensarci seriamente. Che cosa vuoi fare da grande? Da grande vorrei lavorare nell'ambito dello sport, vorrei fare la giornalista sportiva, perché mi piace praticare il calcio ma anche parlarne. E magari, chissà, diventare una calciatrice sarebbe un sogno. Saresti capace di fare la giornalista sportiva? Sì, credo di sì. Mettiamo il caso che avessi una persona qui davanti, cosa le chiederesti? Cosa ne pensi del calcio femminile? E tu cosa ne pensi? Io penso che sia uno sport bello, come il calcio maschile. Non vedo differenze, non vedo perché debba essere messa in secondo piano. Cosa ne pensi oggi delle donne che si avvicinano al calcio? Penso che sia una cosa corretta, perché ognuno, ogni individuo deve seguire le proprie passioni. Sono molto felice di aver alimentato questa passione e spero si diffonda in tutto il mondo questa passione per il calcio per le donne. È la festa della donna per cui si esalta la figura femminile. Tu hai mai ricevuto discriminazione perché facessi questo sport? Sì, perché ho ricevuto delle discriminazioni, sono state molto pesanti, ma grazie alla mia famiglia sono riuscita ad andare avanti. Ho ricevuto queste discriminazioni quando giocavo nel mondo del calcio maschile. Ho sentito molti insulti, ma poi ho comunque alimentato questa passione e alla fine ho detto che il calcio è lo sport di tutti e non solo dei maschi. Com'è successa questa cosa? È successa perché giocando con i maschi molto spesso i genitori degli avversari venivano e quando giocavo, magari alimentavo con il figlio, veniva insultata con parole poco carine anche nei confronti della mia famiglia e dei miei genitori. Però ormai sta cambiando questo approccio perché il calcio femminile sta prendendo piede, ecco. Sì, vero, sono molto contenta di questa cosa. Lotto ancora tutt'oggi quando dicono il calcio è dei maschi, dico il calcio è di tutti, di chi lo vuole fare, di chi lo vuole praticare, perché nessuno deve sentirsi inferiore a nessun altro. Le donne hanno i stessi diritti degli uomini in campo e fuori dal campo. E' un effetto molto bello, mi trovo molto bene con queste ragazze che considero molto mature, sia in campo che fuori dal campo. Sono arrivata da poco ma già mi sento parte di questa grande squadra e spero di riuscire a dare una mano a questa grande squadra. Che cosa vuoi fare da grande? Il mio sogno da grande è diventare un avvocato e difendere quelli che considero i diritti, molto importanti per gli individui, per tutti, senza distizioni, senza razze, senza nessuna discriminazione. Vorresti difendere soprattutto le donne che oggi sono bersaglio degli uomini? Sì, sono bersaglio degli uomini e siamo nel 2021 e questa cosa non deve più succedere. Nessuna donna deve essere maltrattata, punto a diventare un avvocato e quindi a studiare giurisprudenza anche per questo, perché voglio difendere il diritto delle donne che nella società attuale sono molto importanti.